Il proverbio recita chi ben comincia è già a metà dell'opera, la Massese non è sicuramente a metà dell'opera, però ha cominciato con una vittoria sul terreno esterno in una partita giocata in una giornata caldissima, la prima partita ufficiale, i primi tre punti che valgono, una partita gagliarda, godibile, nonostante fosse come abbiamo già detto la prima, e la Massese ha portato via i tre punti, ora c'è da giocarsi il 18 il ritorno a massa. Sì, ti permette di lavorare bene in settimana, è un gruppo totalmente nuovo, abbiamo contato una squadra con delle buone individualità, una squadra molto fisica, una squadra di gamba, abbiamo avuto delle difficoltà come è giusto che siano, dall'altra parte è stata una Massese che dobbiamo lavorare tanto, ci sono degli errori da correggere prima possibile, però intanto ci godiamo questa vittoria qua, adesso pensiamo al Cettaldo. Allora, diciamo che la vittoria ve la state godendo perché insomma abbiamo sentito i festeggiamenti già prima in campo con il pubblico, ma anche negli spogliatoi l'avete presa veramente molto bene questa vittoria, credo che serva per risaldare le fila di una squadra diciamo così costruita con giocatori che non si conoscono. Sì, per noi il risultato è importante, è importante per noi, per il gruppo squadra, è importante per la società, è importante per il presidente, è importante ricuscire il rapporto con la tifoseria, quindi per noi è stata una partita fondamentale. I ragazzi hanno goduto perché è un mese che si lavora con grande intensità e oggi si sono raccolti dei frutti. Sicuramente la partita si è messa in maniera tale con loro un uomo in meno, quindi è avuto un po' il tiro in discesa, però nel secondo tempo onestamente l'uomo in meno non l'ho visto, quindi bene loro e la grande massessa che ancora deve migliorare. Ricordiamo che la Real Forte-Quercetta è una squadra retrocessa, quindi insomma ha una intelaiatura sicuramente da categoria superiore e come hai detto giustamente nel secondo tempo non si è visto che giocavano con dieci giocatori invece che con undici. Ha segnato buffa, il solito, insomma non fa più notizia, però ha segnato anche Costanzo, un bel gol. Gol che sono venuti tutti e tre su calcio d'angolo, come avevamo detto nell'intervista che abbiamo fatto in settimana, si parlava di palle inattive, insomma sono importanti. Sì, come vedi, un grande mole di gioco sia da parte nostra che da parte loro, è una cosa strana, alla fine sono avuti i gol sulle palle inattive. Ci dobbiamo lavorare noi, questa situazione qua ce la siamo portato un pochettino dal precampionato, però siamo stati bravi a recuperarla, a fare il gol sia con Mike che con Claudio, e ti ripeto, adesso i ragazzi stiamo a godere la vittoria. Io ho subito il lavoro con il mio staff a preparare già da martedì la gara in casa con il Certaldo. Hai alternato i due giocatori in quota esterni 2005, Nanni Pieri e Favret. L'hai fatto perché Nanni Pieri è stato ammonito, oppure è una cosa che ti è venuta normalmente, diciamo così, e che potremmo anche rivedere spesso? No, innanzitutto una volta che una squadra in casa prende il rosso avevo paura di un secondo giallo e quindi di andare a riequilibrare la situazione. No, il ragazzo lo stava facendo abbastanza bene, qualcosina, ripeto, dobbiamo lavorarci. Samuele è entrato e ha fatto veramente bene, è un ragazzo con il quale si è stato un buon rapporto, stiamo lavorando anche sulla testa, quindi sicuramente lo vedremo spesso in campo. È un Amassese che, lo dicevamo anche in telecronaca, guarda molto a tenere palla, a fare gioco. C'è qualcosa però davanti che, come posso dire, ancora manca perché, nonostante facesse più gioco l'Amassese, nel primo tempo è stata più pericolosa la Real Forte Querceta. Sì, sì, ma ancora manca in tanti reparti, ti ripeto, è una squadra totalmente nuova, abbiamo dei meccanismi, abbiamo quasi sempre il pallino in mano noi, però ancora manca qualcosina. Da martedì, ti ripeto, ancora una volta ci lavoreremo, però oggi al gruppo devo fare i complimenti, al gruppo, allo staff, alla società che ci ha permesso di lavorare in maniera seria e serena e quindi è giusto che ci prendiamo questa vittoria. Due parole per i tifosi? Ah, i tifosi li conoscevo, sono incommiabili, lo sapevo che venivano. Martedì ce li andiamo a godere con la presentazione della squadra. Sarà un anno tosto, un anno tosto e ci devono stare sempre vicini, anche perché l'Amassese è loro. Grazie e bocca al lupo per accedere.